Dimmi tu, mi fai? Ok. Si tratta di una mostra che vuole proporsi allo spettatore come una sorta di diario di braccio, è dedicata agli artisti spagnoli che fra 1508 e 2520 vennero in Italia, in parte per studiare l'arte italiana moderna, in parte per cercare nuove fette di mercato in cui proporre le proprie creazioni e che si installarono tra Firenze, Roma e Napoli. In questo senso le opere che abbiamo voluto raccogliere, che fanno tutto il riferimento al periodo italiano o al primo rientro in Spagna di artisti come Alonso Peruchete, Petro Maciucca, Bartolomeu Ordonez, Diego Di Siloe, sono dei veri e propri appunti di viaggio perché sono delle registrazioni, delle novità che questi artisti ebbero modo di studiare in Italia, le opere di Michelangelo, di Leonardo, di Raffaello, ma non solo, l'arte del 400, l'arte classica, da riproporre poi sul mercato europeo, prima iberico e poi davvero continentale, perché del resto sono dei veri e propri protagonisti del manierismo internazionale.